I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Procura della Repubblica Capitolina, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, indagati a vario titolo in concorso tra loro per l'ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario, riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari nel settore delle criptovalute. Le indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno consentito di individuare l'esistenza di una struttura organizzativa criminale che avrebbe esercitato abusivamente online l'attività di intermediazione finanziaria, offrendo piani di investimento in criptovalute e assicurando alla clientela elevate percentuali di redditività. L'attività abusiva, che ha permesso agli indagati di gestire illecitamente risorse finanziarie per oltre 1,5 milioni di euro, era formalmente giustificata attraverso un'impresa dedicata all'attività di operatore virtuale in criptoasset, ma autorizzata esclusivamente allo scambio di valuta virtuale e non anche alla promozione di attività di investimento. Dalle indagini è emerso che in molti casi questi servizi finanziari nascondevano attività di riciclaggio professionale. L'acquisto di criptovalute e il successivo accredito delle stesse su Wallet Anonymy avrebbe infatti consentito di ripulire somme di denaro frutto di attività illecite di varia natura. Tali somme, una volta transitate attraverso piattaforme e conti correnti esteri, venivano restituite agli investitori in contanti o tramite bonifici. L'organizzazione criminale, per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei flussi finanziari, utilizzava varie società intestate a prestanome, che fornivano copertura documentale agli scambi di denaro attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.